Il miglior attacco è la difesa per la Fidelisandria ed Alessandro Potenza, tutt'altro che una banalità. Con 13 reti al passivo, dopo 18 turni di campionato, la porta difesa da Dario e Zinfollino è la meno battuta dell'intero girone H. Dopo i 5 centri incassati nei derby con Lemurgiane, Gravina e Tim Altamura, la Fidelis è tornata ermetica domenica scorsa al Dei Ulevi, nello 0-0 contro la Gelbison, in attesa che l'attacco torni a far gol, un dato che permette di limitare i danni e perseguire la politica dei piccoli passi verso una tranquilla salvezza, senza disdegnare la possibilità di lottare per un piazzamento playoff. Alex Bembenga, rinforzo d'esperienza apportato al reparto arretrato dalla sessione invernale di calcio-mercato, si dice già inserito negli schemi dopo due prove da titolare. Stiamo facendo bene il reparto, però comunque forse sarebbe meglio fare qualche gol in più che non prenderlo, però va bene così. Due sole e le reti incassate in casa, di cui una contro il Nardò, prossimo avversario della Fidelis nella trasferta del Giovanni Paolo II in calendario domenica per la seconda giornata di ritorno. In quell'occasione Bembenga vestiva la maglia dei Neretini, oggi distanti un punto in classifica dal gruppo di potenza. L'esperto difensore teme il gruppo di Taurino e ammonisce i suoi compagni circa i singoli da tener d'occhio. Posso dire che hanno grosse individualità, ma soprattutto è il gruppo che fa la differenza di Nardò. È un gruppo abbastanza unito, che lavora bene in campo. Le individualità sono Chiera Mateng, Bertacchi, ovunque Versienti. In vista della sfida al Nardò, torneranno a disposizione Cipolletta e Adamo, mentre non sarà ancora disponibile Petruccelli, che deve scontare il secondo turno di squalifica. Tubi circa le condizioni di Giannini, Bozic e Cristaldi, mentre sono ridotte al lumicino le speranze di recuperare il difensore Gregoric.